Il canale YouTube di Luigi D'Azio Edouard Manet Edouard Manet è un pittore francese dell'Ottocento sicuramente un pittore molto significativo che per certi versi prelude al movimento successivo dell'impressionismo quindi Manet non è un pittore impressionista come il quasi omonimo Manet che invece dell'impressionismo è probabilmente uno dei capisaldi ma è un pittore sicuramente significativo per passaggio importante della storia dell'arte probabilmente uno dei momenti più significativi nella storia tutta la storia dell'arte è quello che appunto segna il passaggio dal realismo all'impressionismo e Manet in questo risulta essere un punto chiave per comprendere questo passaggio Egli nasce a Parigi nel 1832 da una famiglia borghese ma passerà anche alcuni anni della sua giovinezza in svariati altri paesi come il Brasile imbarcato su una nave da trasporto e trascorrerà alcuni mesi a Rio de Janeiro poi in Italia nel 1853 e in Olanda, Germania e Austria nel 1856 durante questi viaggi visita i musei studia, copia le grandi opere di Tiziano Tintoretto di Velasquez di Rembrandt e di Delacroix nel 1858 incontra e diventa amico di Charles Baudelaire Nel 1863 la sua prima mostra personale alla Galleria Martinet di Parigi le sue opere non vengono accettate nel grande salon ufficiale viene creato quindi un salon salon de refusé appunto di quelli rifiutati dal salon ufficiale che però acquista subito un diciamo un'autorevolezza nella Parigi dell'epoca un successo insomma anche questo salon de refusé lì esporrà un quadro un olio su tela molto importante e significativo che è Le Degeneres sur l'herbe egli aveva preso spunto da un quadro di Tiziano il concerto campestre di Tiziano tuttavia aveva rappresentato in questa scena non ninfe divinità come aveva fatto Tiziano ma ha rappresentato personaggi del suo tempo due uomini vestiti con i vestiti appunto dell'Ottocento e una donna nuda che partecipa pensosamente alla discussione totalmente nuda questa donna era però perfettamente riconoscibile dalla gente dell'epoca in quanto era una strumentista una chitarrista che si esibiva nei locali parigini di fronte a questo quadro e in cui vabbè si è detto per inciso in primo piano vi sono particolari realistici il cesto della della colazione diciamo del del picnic in primo piano in secondo piano un'altra donna che si sta per bagnare è un paesaggio con ecco questo si forse ha effettivamente ispirato gli impressionisti questo paesaggio sullo sfondo con queste pennellate un po' frammentarie dicevo però ecco che sicuramente è il soggetto quello che ha colpito maggiormente i critici i quali hanno molto criticato questo questo quadro ritenuto un po' troppo odace quasi come se avesse banalizzato un un soggetto nobile come appunto quello del quadro di Tiziano come se avesse banalizzato insomma la grande pittura rinascimentale e la stessa cosa avvenne qualche anno dopo quando Manet espose nel 1865 l'Olimpia nudo ancora più provocante nel 1867 Manet incontra Emisola morto Baudelaire diventerà amico di Zola e continuerà a rappresentare sulla tela scene di vita borghese continuerà a rappresentare i suoi amici pittori come nel caso della tela Balcon anche essa si può vedere oggi al museo del Louvre di Parigi in questa tela sono presenti un pittore amico di Manet e con la mano appoggiata sul balcone una pittrice Bert Maurizio allieva per diletta di Manet sarà anche modella di altri quadri di Manet e sulla destra invece la violinista Fanny un altro quadro interessante è la ferrovia o la gare de Saint-Lazare la gare de Saint-Lazare ispirerà poi Monet il quale dipingerà i treni a vapore il fumo in svariati dipinti Monet spesso stabiliva un soggetto e su questo soggetto lavorava moltissimo Manet invece ovviamente lavorava moltissimo con il suo nuovo modo di operare che è quello degli impressionisti Manet invece intende rappresentare la psicologia dei personaggi questo lo si vede per esempio nella donna in primo piano sulla sinistra che alza lo sguardo dalla lettura del libro la donna che è il cagnolino in grembo e che esprime tenerezza trepidazione e il realismo presente anche nella raffigurazione della bambina che si aggrappa le sbarre sulla destra il realismo quindi rimane una marca fondamentale nella pittura di Manet egli avrà dei contatti con gli impressionisti ma si rifiuterà di presentare le sue opere di esporre con gli impressionisti e morirà nel 1883 e l'amico Marcel Proust pronuncerà l'orazione funebre altri video didattici su a tuttascuola punto it un a tuttascuola a tuttascuola un a tuttascuola Grazie a tutti.